Il futuro del centro-destra può partire qui da Andrea perché è un futuro di unione, di condivisione, non di spaccatura rispetto a quanto si è verificato a livello regionale o a livello nazionale. Per unire e condividere dei progetti c'è la necessità di fare tutti quanti dei passi indietro, dei passi in avanti a seconda delle circostanze e dei tempi, soprattutto avere delle idee comune per come sviluppare un paese, una nazione, per cercare di entrare nei meandri di quelli che sono i motori economici di sviluppo di un paese. In questo credo che il centro-destra debba fare una profonda riflessione e bisogna tutti quanti ripartire con umiltà ma anche con coraggio di idee e di contenuti. La città è stata già un laboratorio politico per alcune iniziative che hanno trasformato da un punto di vista urbanistico e anche di metodologia di vita la città in questi cinque anni. Non per niente abbiamo raggiunto dei risultati importanti in materia ambientale, siamo tra le prime cinque città d'Italia per la raccolta differenziata, dimostrando che una città del mezzogiorno ce la può fare quando si ha il coraggio dell'azione, il coraggio delle idee e la volontà soprattutto dei nostri concittadini. È un esempio, Andrea, dove al di là di quelle che possono essere le personalità politiche che insistono nel nostro territorio di centro-destra ma anche di altra area, hanno dimostrato sempre di far prevalere gli interessi comuni rispetto alle ambizioni personali. Da Andrea parte un messaggio prezioso per tutto il centro-destra che quando si è uniti e si basa su programmi e persone valide allora si può trovare anche la strada per andare uniti e uniti si vince. Io sono un po' il portabandiera a volte di questo mondo, sono stato vicepresidente di ANCI, sono all'ufficio presidenza, lì ho anche potuto conoscere e apprezzare il lavoro del sindaco Giorgino, un lavoro molto valido e molto positivo. E lì, girando tanti territori, faccio sette regioni in sette giorni questa settimana, vedo tante esperienze positive, vedo tanto buonsenso, vedo questi laboratori. Quindi certo è un caso positivo, è un laboratorio, come ne trovo altri nei comuni italiani. Io dico che dalle periferie può alzarsi un messaggio prezioso per il centro-destra, unito e vincente. Grazie. Grazie. Grazie.